Ancora il lavoro con l'avvertenza Giuzio. Stamattina in Prefettura Potenza il tavolo tecnico sulla vicenda dei lavoratori dell'impresa che si occupa della gestione dei servizi per il consorzio industriale della provincia di Potenza. I lavoratori non ricevono lo stipendio da mesi. Inestesiano. Siamo consapevoli dell'urgenza della questione e quindi non mancherà l'impegno e l'attenzione dovuta. Stamattina in Prefettura Potenza il primo tavolo tecnico tra la regione e il prefetto sulla avvertenza Giuzio. L'obiettivo? Verificare se sarà possibile attuare la soluzione proposta dall'assessore alle attività produttive Franco Cupparo. Ieri infatti durante una videoconferenza alla presenza del consorzio industriale di Potenza per il quale la ditta lavora si è ipotizzato un percorso che consentirebbe il pagamento delle mensilità arretrate ai 60 lavoratori della società che gestisce i servizi nelle aree industriali del Potentino. Un contributo economico straordinario della regione a favore del soggetto nominato per liquidare il consorzio stesso gravemente indebitato. Noi siamo qui per capire se è possibile questo intervento che si prevede abbia natura finanziaria e quindi insomma possa intervenire finanziariamente la regione per aiutare il consorzio ad estinguere questi debiti. Una vertenza lunga e complessa che nei giorni scorsi ha visto però il riconoscimento della mensilità arretrata di novembre. Un piccolo sospiro di sollievo per le 60 famiglie coinvolte ma non basta, dicono Fim, Cisl e Wilm. Devono essere pagate tutte le spettanze arretrate, solo così, aggiungono, si potranno assicurare ancora le attività essenziali nelle aree industriali come la gestione degli impianti di depurazione o delle reti fognarie.